Armap.tv, siamo in compagnia di Antonio Adamiano, Depart Milano. Come nasce la sua galleria? È nata sei anni fa con la prima grande mostra di Mario Nigro, che era uno dei miei artisti preferiti. Gli altri artisti della galleria sono solo otto, sono stati selezionati dai miei studi, dalle mie passioni, in base, non sono una corrente unica, sono otto artisti tutti italiani, uno con l'altro non c'entrano quasi niente, se non che hanno in comune la qualità, la storia dell'arte, l'ottima gestione degli archivi o la serietà degli artisti se sono in qualche caso vivi, perché la maggior parte dei miei artisti sono del pieno novecento. Qui in fiera a Roma, siamo venuti quest'anno, perché il Museo di Roma, lo Gnam, ha fatto questi tre mesi una grandissima mostra dell'arte programmata, Biasi, Colombo, Munari e tutti gli altri artisti internazionali dei vari gruppi, Grav, Mad, eccetera. Quindi noi abbiamo, siccome rappresentiamo sia Munari che Biasi, abbiamo colto l'occasione di presentare in fiera due personali di questi due artisti. Di Munari abbiamo la mostra in corso a Milano fino al 30 giugno, abbiamo praticamente tutti i suoi cicli, dai negativi positivi alle curve di Peano, alle scritture illegibili, alle costruzioni teoriche di un oggetto immaginario. Invece di Biasi siamo specializzati solo sui rilevi ottico-dinamici, anche se in realtà l'artista ha fatto varie ricerche. Però noi siamo l'unica gallega al mondo che tratta di Biasi solo questa produzione. Roma è sempre bella e piacevole e speriamo che il pubblico sia stato molto contento della nostra visita perché abbiamo anche accompagnato la parte culturale, perché molta gente aveva visitato la mostra da Gnam, però come molti visitatori guardano senza sapere. Noi abbiamo approfondito moltissimo a questi visitatori la parte un po' culturale di questi nostri due artisti. Penso che questa è una cosa utile, a prescindere dalle vendite. Un consiglio per i nuovi galleristi? Noi siamo ormai due anni che in ogni fiera non portiamo più collettive, ma facciamo più galleristi, cioè presentiamo mostre monografiche o bipersonali. Secondo me questo è il futuro, perché la gente stufa di andare nelle fiere a vedere gli stessi quadri di due o tre mesi fa o addirittura di un anno fa. Il fatto di presentare delle monografiche o delle bipersonali come in questo caso crea molto interesse. Se tutti facessero così, secondo me le fiere avrebbero un enorme successo. Perché la gente viaggia molto, da Bologna, Milano, Roma, Torino, si vede sempre i stessi quadri dopo un po' si stufa. E in più si lamentano del risultato economico. Io vedo una cosa ovvia, perché se vedono lo stesso quadro che non gli interessava a Bologna, non gli interessa neanche a Roma. Invece noi ogni due o tre mesi presentiamo tutti i stand personali e tutti con materiale inedito. E questo crea molto interesse. In più siamo da approfondimento a chi interessa l'artista. I progetti futuri della sua galleria? Faremo la mostra personale di Biasi ed Artissime. Siamo nella lista d'attesa su Miami, portando Biasi come artista italiano, Alex Kats, che è il più grosso figurativo americano in vita, e Yaya Kusama come giapponese. Anche loro tre non c'entrano uno con l'altro niente, ma in realtà sono tre ottimi investimenti e tre ottimi artisti nella loro ricerca. Perché noi cerchiamo sempre di trattare i maestri all'interno di un gruppo. Quindi per me questi tre artisti sono tre ottimi opportunità. Spero che a Miami mi prendano, perché è una bellissima città e stare lì un mese sarebbe un sogno. Molte grazie. Prego. Prego.